Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Allora, iniziamo intanto dal dire che non sono un consulente finanziario Tutto quello che vedrete in questo video e anche nei video precedenti che ho postato sul mio canale Sono soltanto quello che sto facendo io Non vedeteli come consigli, prendete tutto con le pinze Io non sono un consulente finanziario, non vi posso dire che questo business va bene, quel business non va bene Quindi vedete un po', fate le vostre valutazioni e vedetevela un po' voi Allora, oggi vi presento Gift of Legacy Gift sta per regalo ragazzi, infatti la parola chiave è regalo Quello che noi andremo a fare in questo gioco sarà appunto dei regali E riceveremo dei regali che sarà il nostro guadagno Allora, c'è un pdf in cui, diciamo, viene spiegato tutti i regolamenti Tutto il gioco, come funziona, per filo e per segno Io, se volete, poi questo pdf ve lo lascio nel gruppo Così andate a leggere un po' voi Adesso io non mi diluncherò abbastanza Comunque, brevemente vi faccio vedere qua Ci sono quattro tavole Noi inizieremo con la tavola bronzo Entreremo e pagheremo i 100 dollari Cioè faremo questo regalo a Legend che si troverà al centro E poi una volta che noi saremo i Legend ne usciremo con 800 dollari Perché i gifter, che sono queste quattro e quattro persone otto Ci pagheranno e noi usciremo con 800 dollari Poi saremo liberi di entrare nel tavolo silver che si sbloccherà dopo O altre opzioni che vi farò vedere dopo Allora, brevemente ve lo spiego in maniera semplice Voi sapete che io spiego sempre in maniera semplice Allora, ieri una persona di nome Chiara si presenta Mi fa vedere questa opportunità Io gli do l'ok Mi genera il suo link, me lo invia E io mi registro Allora, innanzitutto vi dico che per invitare delle persone Il link si va sulla sinistra dove ci sono le tre lineette Si prende da qua Voi lo dovete creare al momento che invitate le persone Perché il link non è sempre lo stesso Quindi ogni volta che dovete invitare una persona Andate su Create Si creerà il link Poi fate copia E lo inviate Il link ha una durata di un'ora E poi è invalido E si deve ricreare Quindi chiudo parentesi Una volta registrati Vi ritroverete questa schermata Stessa cosa ovviamente dal telefonino Ci sono i tavoli Ovviamente gli altri sono chiusi Io ho cliccato su bronzo E mi sono trovato in una situazione simile a questa Adesso la situazione si è aggiornata La situazione che io avevo trovato Ieri sera Era questa qua Questa era la situazione che avevo trovato io ieri sera Io ero l'ultimo arrivato Sono Akira Ovviamente come il solito Sono in rosso Perché ancora non avevo pagato il Legend Al centro Ora Che cosa ho fatto io? Ho cliccato A Legend centrale Adesso questo è uno screen Non ve lo fa vedere Però vi faccio vedere Un esempio da qua Cliccando a Legend centrale Vi spuntano le info Ho copiato il numero di telefono E l'ho contattato su Whatsapp Semplicemente Gli ho detto Guarda Sono Enrico Il mio nickname è Akira E sono l'ultimo entrato nel tavolo Come vuoi essere pagato? Come lo vuoi questo regalo? Lui mi fa Tramite Crypto West Dtt Va bene? Io ho detto Certo Ovvio Mi faccio dare il suo indirizzo West Dtt Reciventi E il regalo 100 dollari Io ho fatto il regalo Che cosa è successo? Ho regalato questi 100 dollari A Fratru Cosa è successo? Lui una volta che è arrivato il pagamento Mi ha confermato Cioè ha cliccato sul mio nome Ha confermato che io l'ho pagato E questo tavolo In poche parole Si è diviso Perché come potete vedere Che cosa è successo? Fratru Ha chiuso il suo ciclo Ha ricevuto infine Con i miei 100 dollari Tutti gli 800 dollari Quindi Fratru È uscito dal tavolo E poi Remin E Barbara Sono diventati legend Però Come? La parte superiore del tavolo È andata in automatico Grazie alla piattaforma In un altro tavolo Dove al centro Ci sarà Remin Come legend E tutti i componenti Del team Cioè queste persone Che sono qua Nella parte superiore Del tavolo Si sono sparpagliati All'interno del tavolo Stessa cosa è successa Con noi Che eravamo qui in basso Barbara È andata al centro E noi Ci siamo sparpagliati In automatico All'interno del tavolo Quindi questa di qua È stata la scena Che due minuti dopo Abbiamo trovato All'interno del tavolo Come vedete Io Io non sono più in rosso Perché Ho pagato E sono All'interno del tavolo Adesso abbiamo Questi otto posti liberi Questi otto posti liberi Sono i gifter Sono le persone Che entrano Come sono entrato io Inizialmente Qua E poi vanno A pagare Il legend Ovviamente Questi che siamo già qua L'abbiamo già tutti fatto Gifter Quindi già abbiamo pagato Tutti il legend E siamo adesso Allo step successivo Ora Come vedete Alcuni Sono in bianco Altri hanno Una mezza linea marrone Ecco Vi spiego che cos'è Allora Mezza linea marrone Significa che questa persona Ha invitato Un ref Entrambi Le linee marroni Cioè tutto il cerchio completo Vuol dire che ne ha invitate due Io sono tutto bianco Perché ancora Non avevo invitato nessuno Dopo poche ore Canemax Invita un'altra persona E la ritroviamo qua È Enzo È ancora in rosso Perché deve pagare Barbara E io Questa mattina Ho invitato Marco E si trova qui Ancora Mi manca a me La mezza lineetta Perché è Barbara Che è la legend Non ha ancora letto Scusate Non ha ancora letto Il messaggio Che io Ho invitato Marco E quindi E quindi Ancora non mi ha Confermato Il Il ref Che ho fatto Quindi mi manca Ancora la mezza lineetta Ma Penso che fra un paio di ore Mi confermi Tutte queste persone Che vedete qua Siamo in una community Raga Parliamo fra di noi Ed è quello Che succederà Anche con chi entrerà Dopo Ci sono questi posti liberi Quindi io adesso Magari Invito Domenico Domenico Spunterà qua Poi Domenico E Marco Li inviterò Nell'altro gruppo Telegram Dove ci sono Queste altre persone Ci sono anche Le persone Che ci sono state Prima di noi Sempre a questo tavolo E ci aiutiamo Tutti a vicenda A fare Rete A fare Referral Raga Non è difficile Basta portare Almeno due persone L'uno Ci aiutiamo fra di noi Se uno ha difficoltà Io gli posso dare Qualche referral Mio Stessa cosa Stessa cosa Lui può fare A me volendo Ci sono Raga Ci sono business In cui si guadagna Solo facendo Rete Io vedo persone Che mi Che mi consigliano Temig Royal Q Raga Sono soltanto Progetti In cui guadagna Chi fa rete Ma non rete Cioè dovete avere Almeno 20 15 20 30 persone sotto Lì è difficile Fare rete Qua raga Dovete portare Due persone Cioè una cosa Più semplice di questo Con un minimo Di due persone Che facciamo tutti Il tavolo si chiude In mezza giornata E ci portiamo 800 dollari L'uno a casa Cioè non so Se mi spiego Comunque Che cosa succederà Adesso Una volta che tutti I gifter Si riempiranno E pagheranno Barbara Barbara Uscirà dal tavolo Con il suo profitto E che cosa succederà Quindi Chiasco Leone Stebb E i gifter Che ci saranno qua Andranno in un altro tavolo Saranno risparpagliati Ovviamente Chiasco Prenderà il posto Di legend E la stessa cosa Succederà a noi Orso Prenderà A noi A me Che mi trovo in basso Nella parte inferiore Del tavolo Cosa succederà Orso prenderà Il posto di legend E io O Canemax Passeremo sopra O tipo Canemax sarà sotto Io passerò sopra Non ne ho idea Tutta una cosa Fatta dalla piattaforma Staremo a vedere E gli altri Gifter Si sparpaglieranno Insieme a noi Quindi ci sarà Tipo Una situazione Simile No simile Uguale a questa Però con Altre persone In poche parole E man mano Portando almeno Due persone l'uno Riusciamo Tutti A diventare legend A fare il nostro profitto A ricevere I nostri regali Raga Sono dei regali I soldi Non girano All'interno Della piattaforma Quindi Non c'è il rischio Che la piattaforma Abbia un amministratore Che domani Si sveglia Guarda il conto Della piattaforma Vede che ci sono 500.000 Dollari Caricati E fa Ok Chiudo tutto E mi prendo i soldi E scappo Non lo puoi fare Perché i soldi Girano fra di noi Cioè La piattaforma Noi la usiamo Soltanto perché Ci dà questo sistema Questo algoritmo Noi non andiamo A caricare soldi Sulla piattaforma Voi andrete a pagare Chi entrerà adesso Sotto di me Andrà a pagare Barbara Gli scriverà un messaggio Su whatsapp E lei vi dirà No voglio essere pagata Con paypal No voglio essere pagata Con gritto Meglio E si va avanti Avete capito Una volta che Noi ci troveremo Al centro Come legend I gifter Ci scriveranno Ci contatteranno E ci diranno Ehi come vuoi essere pagato Sono tizio Ti posso pagare in cripto Sì certo Molto più veloce E mi farò pagare E vi farete pagare Dai gifter Una volta che Abbiamo concluso I regali Da parte degli 8 gifter Noi usciremo Dalla piattaforma Cioè usciremo dal tavolo Scusate Con 800 dollari Di guadagno Considerando che Ne avete spesi Ne avete spesi 100 All'inizio avremo Un profitto Di 700 dollari Che può arrivare In uno Due giorni Può arrivare In mezzo pomeriggio Se ci organizziamo Come può arrivare In una settimana In una settimana e mezzo Se abbiamo problemi A trovare Le persone Da fare entrare Ma io non credo Perché se collaboriamo Tutti insieme E portiamo almeno Due persone l'uno Il gioco è fatto Poi la giostra Si tiene la sola Poi vi dicevo Durante La giornata di ieri Il primo scoglio Effettivamente Cioè Il primo ostacolo È appunto Il tavolo bronzo Perché I Il Ref Il referral Ce li dobbiamo fare noi Cosa succede Una volta che Noi usciamo Dal tavolo bronzo Come Come legend Con i nostri 800 dollari Succede Semplicemente Che Ci si apre Un mondo Raga Abbiamo la possibilità Di entrare Nel tavolo Si Abbiamo tre possibilità Una Che è quella Di entrare Nel tavolo silver Dove Noi saremo I nuovi gifter E pagheremo 400 dollari A legend Però Ascoltate bene Dal tavolo silver In poi Quindi silver Gold E platinum È tutto automatico Noi non dobbiamo Fare più rete Cioè Una volta che Noi entriamo Nel silver Questi tavoli Sono a livello mondiale Quindi è il sistema È la piattaforma Che ci trova persone E ce le inserisce In automatico sotto Perché Che cosa succede Le persone Uscendo dal bronzo Con 800 dollari Di profitto Hanno visto Che Ha funzionato Decidono Di investire 400 dollari Del profitto Che hanno fatto Anche nel tavolo Silver E quindi Il sistema In automatico Andrà a prendere Queste persone E le metterà Nei vari tavoli Sotto Ora le tempistiche Non le so Ma sicuramente Io credo Che in una ventina Di giorni I tavoli Si chiuderanno E poi staremo A vedere In cui poi Tu alla fine Come legend Riceverai 400 dollari Da tutti E ne uscirai Con 3002 Avete capito Stessa cosa Poi potete Passare al gold E al platinum Al platinum Uscirete Entrerete Con 5000 Cioè Tutti gli otte Gifter Daranno 5000 Al legend E il legend Uscirà con 40.000 Cioè immaginate Di arrivare A legend Nel platinum E uscire Con 40.000 Dollari Avrete problemi Sicuramente Con Con La finanza Poi vi dicevo Ci sono Altre possibilità Quindi Una è quella Che una volta Usciti dal bronzo Entriamo nel silver Un'altra È Quella Di entrare Nel bronzo Perpetuo Che cos'è Il bronzo Perpetuo È Lo stesso Tavolo Del bronzo Però in automatico Dove Le persone Che Entreranno Qui Saranno Tutte persone Che sono Uscite Dal legend Come voi E quindi Vorranno Rifare Il bronzo Perpetuo Significa All'infinito Ragazzi Cioè voi Pagate 100 dollari Entrate Poi il sistema In automatico Vi riempie La tavola A livello Mondiale E uscirete Con 800 dollari Cioè vi potete fare Ragazzi uno stipendio Mezzo stipendio Al mese Ogni 20 giorni Poi staremo a vedere I tavoli automatici Quanto tempo Hanno bisogno Per chiudersi Questo è un punto interrogativo Che ho anch'io E ve lo dico Tranquillamente Quindi ci sarà anche L'opportunità Del tavolo Perpetuo Oppure La terza Scelta Che potete fare È semplicemente Quella di Intascarvi Scusate Gli 800 dollari E ciao Cioè proprio È uscita Dalla piattaforma E non la fate più Non ve ne frega niente Ovviamente Sarebbe Una cosa Un poco intelligente Da fare Perché Sì posso Posso capire Che non volete entrare Nel tavolo silver Perché 400 dollari Vi sembrano Tanti Però Non provare Il tavolo perpetuo Per solo 100 dollari Che già ce li avete Di profitto Mi sembra da stupidi Ragazzi Perché una volta Entrati qua La giostra Cammina da sola Cioè voi Non dovete fare più niente Non è che dovete andare A invitare persone Voi entrate Aspettate I giorni Che ci vogliono Per chiudere Per chiudere Il tavolo In maniera automatica Fatta tutto Dalla piattaforma Con il suo algoritmo E poi uscite sempre Con 800 dollari Quindi raga È tutto molto semplice Vi lascio poi Il pdf Così Se volete andare A leggere Tutto Ci sono Ci sono Dei gruppi Internazionali Che però A me non interessano Anche perché Quello che interessa A me È fare rete Con voi E andare avanti Ho un altro Gruppetto Dove Parliamo Appunto Solo di questo Dove I componenti Siamo queste persone Siamo sempre in crescita Perché ci sono più di un tavolo All'interno di questo gruppo E tutti portiamo sempre persone dentro Quindi Ottima cosa Io Spero che Questa piattaforma Vi piaccia Capite Il potenziale Che ha E E vi impegnate un po' Perché raga Io Io ve la posso dare una mano Cioè io Lo sapete che comunque Un po' di rete Riesco A farla Spambo un po' A destra e sinistra Vi faccio un esempio Su Facebook L'altro giorno Ho presentato una piattaforma In alcuni gruppi di Facebook Io ormai su Facebook Non ci entro più Perché Non mi interessa Però Ci sono alcuni gruppi Che si chiamano Guadagnare Online Cose del genere Ho pubblicato un paio di piattaforme E raga Mi hanno scritto Tipo In centinaia In centinaia Di persone Che volevano info E Ho fatto Una bellissima rete Con quella piattaforma Perché poi tutte le persone Vi sono iscritte Cioè Quindi capite bene Che non è Non è difficile Trovare due persone Cioè Lo potete chiedere Innanzitutto potete iniziare Dalla vostra famiglia Poi dagli amici Poi vi allargate un po' Vedete voi Vi potete aiutare Con Facebook Potete prendere Questo video Che io sto girando Ve lo salvate E lo inviate Alle persone Ovviamente Utilizzate il vostro link E dovete utilizzare Il cervello Raga Perché vi spiego Io Faccio un esempio Se adesso mi contattano Dieci persone Che vogliono registrarsi Io non è che tutte e dieci Le faccio registrare Con il mio username Io ne posso far registrare Con il mio username Due Poi gli altri Li faccio registrare Con gli username Degli altri Così Si chiude il tavolo In maniera più veloce Capito Cioè non è che mi prendo Tutte e dieci le persone Io E si blocca il sistema Io faccio registrare Due persone E riempio Riempio Questi Questi spazi vuoti Che ho Nella parte inferiore Del tavolo Poi le altre Le faccio registrare Sotto le onestab E chiudo Questa parte superiore Quindi dobbiamo usare Raga Dobbiamo collaborare Gioco di squadra Va bene Va bene Dai ci sentiamo Allora Fra un pochettino Spero che mi contattiate In tanti Buona giornata E buon pranzo E buon pranzo